Bene, siamo all'ultimo giro, giornata faticosa ma di una ricchezza straordinaria, io devo dire che ho imparato molte cose, sono 40 anni che faccio questo mestiere ma tanta roba come oggi insieme non l'avevo mai raccolta e adesso chiamiamo i partecipanti alla tavola rotonda finale che chiude appunto questa giornata, quindi chiamo Luciano Balbo che è Presidente di Oltre Venture, Elena Casolari Presidente Opus Foundation, Giovanni Sabatini Direttore Generale dell'ABI, Marcella Panucci Direttore Generale della Confindustria, Pierpaolo Barretta che è Sottosegretario al Ministero dell'Economia e ultima ma non ultima Letizia Morati la cofondatrice della Fondazione San Patrignano, è un po' l'anima di questa giornata. Se volete accomodarvi con la disposizione che... Lasciamo magari la dottoressa Moratti qui alla sua destra, giornale, gioco, se c'è Gli interventi previsti di questa... io mi auguro che sia anche una tavola rotonda autentica nel senso che magari ci sia anche qualche scambio, qualche incrocio, ma che immagino che i partecipanti hanno preparato comunque un loro speech, dovrebbero essere tra gli 8 e 10 minuti. Se fosse un po' meno il tempo preso, poi magari resta il tempo per fare qualche incrocio. Io, proprio perché è stata una giornata ricca di temi talmente ampi che faccio fatica a sintetizzare, comincerei col dare la parola a Letizia Morati che, come dicevo prima, è un po' l'anima, la spinta di questa giornata e poi faremo concludere anche a lei, diciamo, la... faremo dare la conclusione di questa tavola rotonda. Letizia. Grazie. Io partirò facendo una premessa. Mi sembra che la giornata di oggi sia una giornata importante perché mostra una sensibilità crescente da parte del mondo delle imprese più in generale della società rispetto alle tematiche relative all'economia sociale di mercato. Due dati. Oggi in Portogallo c'è un incontro estremamente interessante dove viene annunciato un fondo simile al fondo annunciato dal Presidente Renzi in luglio, un fondo di 150 milioni di Euro a favore delle imprese sociali. Ieri a Le Havre insieme a Jacques Attali abbiamo, ecco il Primo Ministro Valls, aperto il terzo forum del Movimento dell'Economia Positiva. Quindi in due giorni in Portogallo, in Francia e in Italia eventi tutti legati a queste tematiche appunto dell'economia sociale di mercato. Ma queste giornate dedicate a questi temi si iscrivono in movimenti che a partire dalla Commissione Europea per arrivare fino alla Task Force G8, G7, stanno sviluppando appunto queste tematiche che riguardano nuovi modelli economici e sociali. Li cito molto sinteticamente, ma sono già stati citati questa mattina, la Social Business Initiative da parte della Commissione Europea con la seconda fase che si è aperta con la dichiarazione di Strasburgo del gennaio scorso, come ho detto il Movimento di Jacques Attali che si propone in maniera concreta di cambiare misuratori macroeconomici e misuratori di indicatori delle imprese per consentire e facilitare investimenti di lungo periodo e la Task Force G8 che ha visto l'impegno, tra l'altro ci sono qui, saluto anche Raffaella Abate, ci sono qui tanti amici, Stefano Granata, tanti amici che hanno partecipato ai lavori, mi spiacciono, mi scuso di non citarli tutti, ai lavori della Task Force che mostrano appunto un fermento rispetto a queste tematiche. Perché questo fermento? Alcuni dati fondamentali. Negli ultimi anni la crisi, partita come crisi finanziaria, diventata crisi dell'economia reale, ha fatto aumentare il debito dei paesi G7 di 18 mila miliardi di Euro, una cifra assolutamente insostenibile. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro indica il tasso documentale, disoccupazione al 56%, un punto percentuale sotto il 2007, quindi prima della crisi, con purtroppo la previsione di avere 2 milioni e mezzo di disoccupati in più all'anno, almeno da qui fino al 2018. Quindi il tema della sostenibilità del debito, il tema della disoccupazione sono temi ovviamente che devono poter trovare forme, strumenti nuovi perché la sfida del contenimento del debito e della disoccupazione sia vinta. Un ultimo dato, per chiudere questa prima parte, la cancelliera Merkel dà sempre tre dati. Primo dato, l'Europa rappresenta il 7% della popolazione del mondo, il 25% del PIL del mondo, il 50% del welfare del mondo. Pensate che sia sostenibile con il 7% della popolazione, il 25% del PIL, continuare ad assorbire risorse per il welfare del 50%? Impossibile senza crescita e noi non abbiamo crescita e le regole di Basilea probabilmente ci impediranno di continuare ad avere crescita, a meno di non trovare strumenti diversi, modalità di organizzazione diverse e attori che in maniera responsabile e individuale, come ha sollecitato questa mattina il Ministro Poletti, vogliano inserirsi in questo quadro così complesso. Quindi dobbiamo guardare a tutte queste nuove forme, prescindendo dall'organizzazione che ogni entità ha deciso e decide di darsi, ma guardando invece all'obiettivo che è quello del bene comune, della crescita, dello sviluppo, dell'impiego, dell'occupazione, che ogni organizzazione decide di poter sviluppare secondo le proprie peculiarità, secondo le proprie capacità, secondo le proprie competenze, secondo la propria vocazione. Quindi superare barriere, steccati, ideologie, perché se non operiamo con una visione innovativa, con strumenti innovativi, con modalità innovative, creando quello che Sir Ronald Cohen ha così ben definito un ecosistema favorevole alla crescita, allo sviluppo, bene ci troveremo ad avere problemi anche di coesione sociale gravissimi. Ieri parlavo con un filantropo e imprenditore libanese di grande spessore culturale, pensate che in Libano in questo momento ci sono 2 milioni di rifugiati dalla Siria, su una popolazione di 4 milioni di abitanti. Questo è solo un piccolo esempio, ma quanti rifugiati, quante persone nel prossimo futuro, ma futuro molto prossimo avremo, se non saremo capaci di affrontare anche questi problemi. Allora mettiamo al cuore della nostra azione, qualsiasi sia il ruolo che noi ricopriamo, pubblico, privato, profit, non profit, mettiamo questi temi al centro della nostra azione e cerchiamo di vedere che attraverso un'azione di condivisione, un'azione di partecipazione, un'azione di obiettivi rivolti al bene comune, possiamo non solo superare la crisi, ma possiamo fare in modo che la crisi si trasformi in opportunità, opportunità di creare una nuova economia sociale e di mercato. Grazie. Luciano Balbo, quella parolina venture dopo oltre immagino che abbia un significato particolare? No, ha un significato originario, cioè oltre venture è un piccolo fondo di venture capital che invece di investire come gli altri fondi in high tech e tutto, investe sul settore sociale, abbiamo fatto una società che fa microcredit in Italia, una catena di centri medici low cost e operiamo nel housing sociale. Detto questo concordo al più del 100% con quello che ha detto adesso la dottoressa Morati e quindi non ripeterò niente di quello, ma mi concentrerò solo sul come, perché le cose che qui ha detto la dottoressa Morati, che ha detto Ronald coin stanno diventando note, importanti, tenderei a dire di moda e nello stante in cui lo dico ho un po' di paura, perché le cose di moda, ma il mercato sottostante, le cose sottostanti sono ancora poche, va bene così, però il problema è di cosa stiamo parlando, io entro nel merito, quello che chiamiamo, questa è una char che avevo già fatto, sostituiamo impact investing, economia sociale di mercato, poi le definizioni possono cambiare, ma prendiamola così, quello di cui stiamo parlando è proprio riempire il gap che c'è lì, perché il settore pubblico, scusate quando io dico settore pubblico dico anche i privati che erogano il nome del settore pubblico, perché qualche volta noi diciamo sono andato in un centro medico privato e sono andato in un centro medico pubblico, ma tranne i pochi in Italia che pagano di tasca propria, quando uno va in un centro medico privato paga sempre lo Stato, il problema quindi è che l'offerta pubblica ha bisogno di essere innovata, oltre che avere dei problemi evidentemente di budget, i problemi di budget possono essere superati sia in relazione a spendere di più o meno, ma il come, perché dobbiamo dimenticare che la spesa pubblica italiana è circa 250 miliardi, quando i vari governi ogni tanto fanno dei tagli di 2, 3, 4 miliardi, fanno dei tagli, non entro nel merito, quella è una scelta politica dei cittadini, ma il problema è come usiamo gli altri 250 miliardi, che mi sembra quasi più importante dei 3 miliardi che vengono tagliati o aggiunti, sappiamo che il settore pubblico ha in tutto il mondo, non solo in Italia, una grande difficoltà di innovare, le ragioni sono a tutte note, però sappiamo anche che i privati che erogano in nome del conto del settore pubblico, per definizione non innovano, offrono dei servizi a piedi di lista, non lo possono fare e non hanno neanche nessun incentivo a farlo, quindi oggi tenendo conto che poi il welfare ha un'altra gamba, che sono l'out of pocket dei cittadini e i costi non pagati delle famiglie, che valgono tantissimo, perché questo alla fine paga lo Stato, noi attraverso le tasse, noi di tasca propria e noi quando offriamo del lavoro gratuito magari facendo i nonni, quindi il problema è che noi dobbiamo innovare questi modelli, dobbiamo riuscire a fare allo stesso costo di più o uguale con meno costo, a far funzionare meglio le scuole, a far funzionare meglio gli ospedali, ad avere meno sprechi e questo non nasce appaltando ad un privato, ma sviluppando nuovi modelli che siano più efficaci, questa è la scommessa. Negli ultimi 50 anni noi abbiamo innovato tantissimo nel 50% del PIL privato, pensiamo tutta la rivoluzione che abbiamo vissuto, oggi dobbiamo innovare nel, non dico 50% perché nello Stato ci sono la struttura dello Stato, l'esercito, ma nella gran parte di quello che è il settore sociale, questa è la scommessa, lì dobbiamo mettere le mani e come ha detto un po' brutalmente il fondatore di SOS, scusatemi l'ha detto più gentilmente la dottoressa Moratti, se è profit o non profit chi se ne frega, noi abbiamo bisogno di soluzioni, poi abbiamo bisogno di leggi, i mercati non nascono per legge, noi abbiamo bisogno di soluzioni, la battaglia è sulle soluzioni, quando vi parlano di un'azienda la prima cosa che chiedete è se S.P.A. o S.S.R.L. o che prodotto fai, che mercato serve, partiamo anche qui dal senso, abbiamo bisogno di soluzioni, perché le soluzioni creeranno il successo, tutti i mercati sono nati così, pionieri, il venture capital è nato così, primi successi, nuovi capitali, non c'è, è giusto fare mille convegni, ma guardate che solo i casi di successo generano i mercati, finora è sempre andato così, io credo che dobbiamo basarci sulla storia, io credo che anche questa volta succederà così, l'ultime due cose, uno abbiamo bisogno anche dello Stato, perché comunque lo Stato spende quei famosi 250 miliardi, lo Stato deve cambiare come fa outsourcing, lo Stato visto che non può fare innovazione, perché lo Stato non può sbagliare, ma ripeto questo vale anche in Germania e in Inghilterra, deve fare outsourcing diverso, invece che dire chiamo un privato a fare la stessa prestazione che faccio io, dico chiamo un privato a risolvermi il problema, gli do un pezzo di budget, lo faccio rischiare e provo, e se non va bene gli tolgo il budget e se va bene lo confermo, quindi lo Stato deve diventare stimolo di innovazione, se non miglioriamo la spesa dei 250 miliardi non saranno i capitali privati che risolveranno il problema, i capitali devono corrischiare, ma ci vuole che lo Stato si prenda il rischio di innovare, lo so che dire questo in Italia è difficile, ma non si passa perché dobbiamo far funzionare meglio quei soldi. L'ultima cosa invece tocca proprio i privati, io credo che per far funzionare tutto dobbiamo anche cambiare le aspettative dei privati, il mondo non è mai stato così ricco, non in modo uguale, però nel mondo occidentale la ricchezza privata è tra 5 e 6 volte il prodotto nazionale lordo e un terzo di questa ricchezza privata è liquida e vi dico di più, in proporzione al PIL la ricchezza liquida privata in Italia è più alta che in Germania perché noi investiamo meno, non possiamo continuare a investire la ricchezza dei privati sugli stessi asset per creare delle bolle speculative sperando sempre di avere un ritorno double digit, o calmieriamo le aspettative di ritorno o non ne usciamo, anche i privati devono giocare la loro parte perché non si può solo metterle in colpa allo Stato di chi ha moltissime responsabilità, o quella liquidità la usiamo meglio oppure non abbiamo soluzioni. Grazie. Grazie Balbo. Elena, lei? Buonasera a tutti e ringrazio Letizia Morati per l'invito che ho accolto con estremo piacere perché la riflessione sul quarto settore, sulle organizzazioni del quarto settore non solo rientra in un affascinante tema culturale perché di cultura si parla, ma perché ripensando alla mia storia, alla storia di Opes ho ritenuto che tutto sommato Opes sia un'organizzazione di quarto settore e quando ho iniziato con altre persone e alcune organizzazioni a pensare ad Opes non abbiamo pensato a definizioni, a perimetri, abbiamo pensato a un problema e alla soluzione che poteva esserci. Opes è nata perché c'è una storia di ibridazioni di mondi diversi e anche la mia storia personale è una storia di mondi diversi che ho attraversato dalla finanza alla filantropia, dalla filantropia alla cooperazione internazionale e in ognuno di questi mondi ho trovato degli asset, dei virtuosismi, dei grandi vincoli se presi solo nelle loro specificità. Nella finanza ho conosciuto la grande leva dei meccanismi ma anche i rischi di quando le architetture finanziarie si allontanano dagli asset sottostanti. Nella filantropia ho conosciuto il coraggio e l'entusiasmo, le lungimiranze di persone e istituzioni ma anche il disorientamento quando la dispersione delle risorse non risponde alle aspettative che le ha promosse. Nella cooperazione internazionale, negli aiuti allo sviluppo ho soprattutto trovato la fatica della sostenibilità e personalmente ho vissuto quella che io chiamo la sindrome del ribbon cut. Ogni volta che un progetto finisce e i flash scompaiono, l'attenzione mediatica si viene ad allentare. Che cosa succede dopo? Molti progetti implodono perché non ci sono più sovvenzioni. Opes è un po' un'ibridazione di questi mondi e della sintesi della leva finanziaria, dell'approccio di mercato, della tolleranza del rischio che i capitali filantropici possono fornire e che in termini finanziari chiamiamo quella first loss che pochi riescono a garantire ma che in una filiera di offerta di capitale è fondamentale. Opes è una fondazione che raccoglie capitali filantropici, li investe come capitali di investimento in imprese ad alta valenza ed impatto sociale. Imprese che possono essere for profit o non profit, non ce lo siamo chiesto. Per noi era importante la soluzione e nel primo anno di vita di Opes ci è stato chiesto molte volte dopo che abbiamo fatto gli nostri primi cinque investimenti perché non l'Italia, perché non fate Opes anche in Italia e riteniamo che in effetti in Italia con le sue vulnerabilità crescenti, problemi risolti, le diffuse povertà ha effettivamente bisogno di soluzioni così, di tanti Opes che possano mettere a servizio delle soluzioni un capitale veramente paziente, un capitale ad alto rischio che prevede sì una remunerazione ma che ha l'attenzione di mettersi accanto all'imprenditore e questo pensiamo che sia assolutamente necessario nel nostro Paese, un capitale di rischio che quindi vada a complementare un'offerta di debito che già esiste ed è già molto articolata. Vorrei solo concludere con un pensiero di un pensatore che io amo, un pensatore colombiano che parla di intelligenza altruista, io penso che in questo momento in cui vediamo una profonda convergenza di aspettative, di interessi, di realtà e di istituzioni diverse che si ritrovano a parlare di soluzioni, sia importante affrontare i problemi titanici di ampia scala che abbiamo proprio con questa intelligenza, non pensando a tutelare i perimetri, a difendere, a resistere ma soprattutto ad aprirsi al cambiamento perché penso che nel cambiamento e nella diversità ci sia una grandissima ricchezza, quindi proprio anche nella definizione del quadro normativo che dovrà essere fatto e verrà fatto in Italia per promuovere, spero, l'emergere di questo quarto settore, mi auguro che ci sia meno difesa, meno perimetri escludenti e più perimetri inclusivi. Grazie Elena, ben detto. Giovanni, oggi di Banche si è parlato per una volta, neanche tanto male, quindi è più facile il tuo intervento. Il Confindustria noi parliamo sempre bene. È vero però, ma devo dire che sono veramente grato per questo invito a Confindustria a San Patrignano, perché in realtà la drammaticità della congiuntura che viviamo continua a farci focalizzare su soluzioni di tipo emergenziale e quindi poi quando vado a parlare nei convegni quello che si chiede alle banche sono moratorie, sostegno alle imprese nelle contingenze di crisi, ma invece credo che l'occasione di oggi sia l'occasione per fare qualche riflessione di carattere strutturale, cercare veramente di capire quali sono le lezioni della crisi. Ovviamente la quotidianità e le emergenze che dobbiamo fronteggiare come imprese e come banche sono importanti, ma se ci continuiamo a focalizzare soltanto sulle soluzioni di breve periodo e quindi continuiamo ad avere la vista corta, continueremo a ripetere gli errori che poi hanno generato la crisi. Quindi è molto importante una riflessione che recuperi l'orizzonte del lungo termine e che dia soluzioni, ma soluzioni che siano strutturali. A ben vedere la crisi è il frutto di un accumulo di squilibri che non sono stati corretti per tempo, squilibri che puntavano a una crescita drogata da bolle speculative, facilitate ovviamente da strumenti di una finanza che si era scollegata dalla sua vera funzione, cioè quella di trovare soluzioni per il finanziamento dell'economia reale e squilibri che poi si sono ampliati anche a livello macroeconomico e quindi credo che il punto di partenza per costruire soluzioni per il futuro sia quello di ripensare anche al concetto di crescita equilibrata e quindi una crescita qualitativamente migliore. E quando parlo di crescita sostenibile credo che questa possa essere qualificata in termini di crescita bilanciata, quindi non drogata da bolle speculative e quindi anche continuare ad affidarsi soltanto alla politica monetaria come unica chiave per risolvere la situazione e le difficoltà del momento di nuovo ci porta a usare la vista corta, un cannocchiale rovesciato che ci fa vedere le cose vicine ma non ci fa vedere come gli squilibri strutturali che erano la base della crisi ancora non sono stati corretti. Una crescita inclusiva perché purtroppo lo sviluppo che abbiamo conosciuto finora è stato uno sviluppo che ha creato sempre più sacche di emarginazione, di insoddisfazione e quindi creando le premesse per problemi futuri che avranno costi anche in termini proprio di rendimenti per le imprese private rilevanti. Quindi crescita deve essere crescita inclusiva e in questo senso generazionalmente solidale e quindi non spostando in avanti su debiti futuri i problemi dell'attuale, dell'oggi e poi crescita rispettosa ovviamente dell'ambiente perché il prezzo che pagheremo, che paghiamo e pagheremo di una scarsa attenzione anche a questa dimensione sarà elevatissimo. Quindi credo che il valore aggiunto di queste riflessioni siano proprio di spostare su orizzonti lunghi la ricerca delle soluzioni. In questo contesto la finanza sociale deve recuperare un valore positivo, purtroppo uno degli effetti negativi della crisi è che tutto ciò che è finanza viene immediatamente bollato come un qualcosa di negativo che crea problemi, che crea disuguaglianze, non è vero, la finanza sociale, la finanza se regolata, se orientata allo sviluppo, crea benessere, è un motore di crescita e quindi occorre che la finanza torni ad avere questa funzione. Io credo che questo concetto lo ritroviamo anche in un testo autorevolissimo nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI che riconosce l'importanza di un'attività economico-finanziaria positiva, orientata allo sviluppo e che comunque ponga la figura dell'uomo al centro delle sue riflessioni e come obiettivo della sua azione. Quindi il tema è anche come le banche possano riportare l'azione della finanza su questo sentiero di sostegno a una crescita sostenibile. Ecco, da questo punto di vista io credo che le banche non dovranno dimenticare la loro natura di imprese, imprese e quindi che comunque operano nell'ambito del profitto, ma dovranno riuscire a coniugare ora tre dimensioni, il rischio, il rendimento e la valorizzazione della dimensione sociale delle attività che vanno a finanziare. Quindi questo richiede però che si determinino anche delle condizioni che vedono necessariamente l'intervento del pubblico a sostegno anche dell'azione del privato e quindi credo che questo sia un campo dove pubblico e privato debbono lavorare insieme, anche perché, lo ricordava la Presidente Moratti, le finanze pubbliche non sono più in grado di sostenere un livello di welfare sufficiente a essere inclusivo di tutti i cittadini, di tutti quelli che oggi effettivamente hanno bisogno e non sono in grado di pagare da solo il welfare. Quindi è necessario un incontro tra pubblico e privato. Cosa dovrà fare il pubblico? In qualche modo dovrà dare una mano a quella che è un'impresa a trovare delle compensazioni sulle due dimensioni redditività o rischio e che ritrovino poi a livello sociale la compensazione nella dimensione sociale. E quindi è stato ricordato prima l'importanza ad esempio dei fondi di garanzia e devo dire in Italia molto è stato fatto, abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative, da iniziative del microcredito, iniziative anche con la CEI dove il meccanismo di base era quello che con poche risorse si crea un fondo di garanzia che riduce il rischio di credito, quindi migliora il merito di credito dell'iniziativa che viene finanziata e quindi di fatto ne abbassa anche la richiesta di rendimento e questo nella logica che poi a livello complessivo il beneficio è quello della dimensione sociale. Tutto questo e mi avvio a finire però deve trovare anche un riconoscimento in un quadro di regole, scusate sono banale, torno anche al tema di Basilea. È vero che la crisi ha evidenziato delle forti lacune nei sistemi di regolazione, ma il pendolo ha oscillato nella direzione di un'eccessiva fase di regolamentazione, sono sette anni che stiamo aggiungendo regole su regole e forse in realtà la cosa più importante l'abbiamo fatta per ultima, c'è un efficiente sistema di vigilanza europeo. Secondo me il maggior risultato che abbiamo ottenuto da questa crisi è la creazione del sistema unico di vigilanza presso la BCE che è l'unico vero meccanismo fondamentale per garantire la stabilità in un mercato europeo fortemente integrato. Troppe regole e la complessità del nuovo quadro di regole si misura nel numero di migliaia di pagine che compongono i nuovi provvedimenti normativi, rende anche probabilmente questa regolamentazione non sufficientemente bilanciata per tener conto che una cosa è l'attività della finanza delle banche di investimento e un'altra cosa è l'attività di una banca regionale o di una banca locale la cui funzione è fondamentalmente quella di raccogliere il risparmio e derogare credito, quindi regole non sempre bilanciate e purtroppo regole procicliche perché è vero che nel lungo periodo una banca più capitalizzata farà più credito, ma nell'immediato se deve raccogliere credito in una fase di crisi di mercati di capitali dove c'è una scarsità di liquidità alla fine ridurrà il credito e a questo punto accelera la velocità di contrazione dell'economia, quindi regole cicliche, quindi sicuramente un ripensamento e quindi forse anche un'opportunità per la presidenza italiana in Europa potrebbe essere quella di favorire una riflessione su regole che garantiscano e meglio bilancino la necessità di stabilità ma anche di crescita e di sviluppo. Ecco quindi questo credo che sia un po' i temi sui quali riflettere perché effettivamente le soluzioni di oggi non siano viziate da quella vista corta che ci ha portato alla crisi ma possano creare effettivamente le premesse per uno sviluppo qualitativamente positivo, sostenibile nel tempo. Grazie. Grazie Giovanni. Anche tu sei molto speranzoso, scusa se sono molto scettico io, ma le esperienze e la storia non ci ha dato ragione in molte situazioni, purtroppo. E appunto approfittiamo del fatto che c'è il sottosegretario Barretta che oggi avrà ricevuto, questa mattina sono fischiate un po' le orecchie perché il suo ministero è stato un po' citato, poi la sua presenza qui naturalmente poi lei ha recepito anche altri stimoli e una delle cose che per esempio si è discusso questa mattina, sono emersi questa mattina un po' questa perplessità sul fatto che nella contabilità dello Stato sia stata inserita l'economia criminale, ma manchi l'economia sociale, c'è una contraddizione o comunque sia qualcosa che non torna. Ecco, se vogliamo cominciare da qui a lei la parola. Grazie, la ringrazio. Tanto vi ringrazio davvero dell'invito, ho anche il gradito compito di portare i saluti del ministro a questa iniziativa, ma partirei da una considerazione che è stata ben esposta all'inizio da Letizia Moratti e cioè la straordinaria occasione che ci offre la crisi, perché è tutto evidente che c'è bisogno di modelli nuovi, veniva ricordato anche con dei dati alla mano, altri ne ha portati Balbo quando ha ricordato l'afflusso dei capitali privati in giro. Credo che la domanda, se stiamo perdendo l'occasione, è una domanda impegnativa ma che con modestia ci dobbiamo fare tutti insieme, perché effettivamente il rischio che il dibattito sulla ripresa, e siamo tutti affannati per riuscirci, tenga scarsamente conto della lezione della crisi è un rischio che percepiamo tutti a tutti i livelli, dall'ansia della gestione quotidiana, mentre invece ormai disponiamo di una struttura, il dibattito sull'economia politica ha fatto dei passi in avanti notevoli, disponiamo di scuole di pensiero che ci dicono con chiarezza e con scientificità che profitto e investimento sociale, produttività e etica non sono contrapposti ma si sorreggono a vicenda. Allora in questo senso, e vengo subito per non glissare alla questione che è stata posta, forse è necessario ed urgente che affrontiamo tutti coloro che credono a questo tema con più determinazione la questione dei nuovi indicatori a tutti i livelli, ma senza tanto girarci attorno approfitterei del fatto che si è aperto un dibattito sul PIL in questo modo per forzare una discussione che è scientificamente possibile, perché non sto parlando del Bhutan e della felicità, sto parlando di criteri scientificamente provati, gli esperti sanno bene che c'è ormai una letteratura sufficientemente consolidata per una riflessione sui parametri del PIL, io personalmente mi sono speso nella seconda parte della scorsa legislatura essendo in commissione bilancio, perché la commissione bilancio della Camera discutesse di questo punto, non un convegno, ma il luogo nel quale, e abbiamo costruito una relazione che è stata poi consegnata ai nuovi legislatori, si può riprendere questo dibattito, così come il tema della responsabilità sociale di impresa e non solo di impresa, che alcuni anni fa ha avuto un momento di successo nel dibattito politico e culturale italiano, poi per tante ragioni la crisi stessa lo ha accantonato, ma in qualche modo provare con uno sforzo a riprenderlo, devo dire con un'affermazione tutta politica che visto che si parla tanto di modello tedesco, prendiamo anche questi aspetti del modello tedesco, sappiamo che nel modello tedesco l'approccio ad una dimensione sociale e anche collaborativa, che implica una nuova visione anche dei processi di relazione, è molto spinta, tant'è che addirittura per legge, io non penso che in Italia vada codificata per legge, penso più a una struttura volontaria ancora, ma spero se ci mettiamo a lavorarci, quindi già questo è un primo elemento di agenda. Aggiungo che per l'Italia credo che ci siano ragioni in più che ci portano all'urgenza e alla necessità di una piattaforma condivisa su questi temi, prima ho sentito l'intervento del Ministro Franceschini a sostegno della cultura, prima ancora ho sentito l'intervento sul rapporto tra l'artigianato e il Made in Italy, noi abbiamo queste cose da giocarci e queste sono legate a cosa? Alla qualità e la qualità ha bisogno di una dimensione sociale più robusta, più innalziamo la sfida competitiva dal pur necessario approccio sui costi, anche una componente di qualità, più è necessario che la qualità sia accompagnata da coesione sociale, da una visione di economia sociale di mercato, da un sostegno finanziario che vada in questa direzione. Aggiungo un altro elemento per cui considero necessario questo approccio che è la questione del welfare, ci è capitato di parlarne alcune volte anche con Marcella, diciamola chiara, è evidente che per ragioni positive il fatto che ad esempio noi siamo il terzo o quarto paese al mondo per l'attesa di vita, quindi che è una ragione positiva, però abbiamo una conseguenza complessa, cioè che la domanda di welfare è più alta della possibilità di risposta che lo Stato, ma non lo Stato perché è in crisi, anche se non fossimo nelle condizioni di crisi attuali, riusciamo a dare. Allora qui entra in gioco davvero tutto il tema della sussidiarietà, del terzo settore, del quarto settore, cioè di tutta quella dimensione sociale di mercato a sostegno di una visione del… mi permetto di dire che questa è una delle ragioni per la quale sono molto perplesso, per non dire contrario alle tesi che sento girare in queste ore su un utilizzo del TFR spalmato, perché nell'esperienza che abbiamo fatto in questi anni il TFR è stato, a parte gli aspetti che interessano le imprese di liquidità, è stato utilizzato per sostenere prima una questione decisiva come la previdenza integrativa e in secondo luogo potrebbe essere, lo è, per sostenere sistemi come quelli della sanità integrativa che è un altro pezzo fondamentale. Se assumiamo tutto questo come ragionamento ci accorgiamo di una cosa straordinariamente interessante che dobbiamo riuscire ad affermare, che però non è ancora affermata, che non stiamo parlando di una nicchia, lo è ancora, ma dal punto di vista delle potenzialità, mentre invece c'è ancora l'idea che questa è una variante nobile o debole della linea produttiva classica dell'impresa, del capitalismo etc., mentre invece è un pezzo, direi sempre più, qualche numero ci aiuta perché probabilmente l'avete anche sicuramente detto, ma il fatto che il 10% delle imprese in Europa sono caratterizzabili come imprese di economia sociale e già è il 6% dell'occupazione, sembrano piccoli dati, ma in una situazione di questo tipo, soprattutto perché sono dati in crescita, si confortano. Allora l'ultima osservazione che voglio fare in coerenza con questo ragionamento, non c'è dubbio che dobbiamo lavorare anche ad alcuni strumenti finanziari che ci aiutino a sostenere questo progetto, adesso Sabattini ricordava alcune cose, i fondi di garanzia sui quali possiamo procedere ulteriormente, perché come abbiamo reciprocamente analizzato e visto, il fondo di garanzia non solo riduce il rischio dei soggetti che vi aderiscono, ma è assolutamente compatibile con un quadro generale anche di finanza pubblica, questo è il tema e quindi lavorarci. Secondo, sicuramente la questione del microcredito, lì c'è un po' di ritardo effettivamente anche da parte nostra, bisogna che lo superiamo rapidamente nella formulazione dei criteri e poi una fiscalità ad hoc che prima si è parlato degli incentivi e l'ultima cosa che voglio dire è l'utilizzo anche di un misto tra finanza pubblica e finanza privata, per esempio in queste ore, in questi giorni noi stiamo lavorando con le casse pensioni e i fondi pensione, per chiedere se è possibile un orientamento, lo dico in maniera concreta e concludo, tra casse private, ingegneri, medici eccetera, e fondi pensione, gestiti sindacati e imprese, c'è un accumulato di 140 miliardi investito al 99% in debito, metà estero e metà italiano, se il 10% di questo accumulato si spostasse da investimento in debito, in investimento in cosiddetta economia reale e ovviamente per la natura originaria di questi soggetti, la prima economia reale a cui c'è a quale investire è l'economia sociale di mercato, che abbia un'attinenza, il 10% per questi soggetti è relativo, per lo Stato è un punto di pin che si muove, quindi sono questioni molto aperte e molto possibili e credo che quindi c'è un terreno di lavoro che per quanto riguarda anche il Ministero e la sensibilità dell'attuale gestione del Ministero, il Ministro e noi possiamo credo considerare anche questo appuntamento l'avvio di un ragionamento anche proprio operativo, possiamo darci anche dei luoghi nei quali senza la convegnistica vediamo cosa riusciamo a fare col massimo della buona volontà possibile, ma anche con l'idea che stiamo mettendo in moto un modo di pensare alla ripresa non alternativo, ma assolutamente invece centrale. Grazie, è stato piuttosto chiaro, auspicia naturalmente che seguono davvero le cose che lei si è augurata che si facciano, quindi io passo la parola a Marcella Panucci che ringrazio il Direttore Generale della Confindustria, è sempre una figura molto importante, soprattutto in situazioni come queste dove vedere Confindustria e la Fondazione San Patrignano fa un certo effetto su questo tema, su questo tema qui in questo luogo in casa degli imprenditori e questa è una rottura di un'apertura veramente molto importante che come diceva il Sottosegretario Barretta dovrebbe avere seguito anche in altre sedi. Grazie, grazie Osvaldo, io essendo la penultima a intervenire dopo le conclusioni della dottoressa Moratti non posso che ringraziare la dottoressa Moratti per aver sollecitato l'organizzazione di questa iniziativa, anch'io sono molto orgogliosa di vedere il logo di Confindustria vicino a quello di San Patrignano, perché penso che i temi della solidarietà, della sussidiarietà, dell'economia sociale siano il futuro del nostro paese e lo dico a ragion veduta perché non voglio citare quello che è già stato detto oggi con molta maggiore sapienza di quella che potrei avere io sulla crisi, sull'impatto della crisi, sui nostri sistemi di welfare, di sostegno alla persona, però è un dato di fatto che noi abbiamo risorse purtroppo scarse e in futuro a tendere decrescenti non soltanto in regione della crisi ma per i motivi di cui parlava Pierpaolo Barretta perché sta cambiando il tessuto, sta cambiando la popolazione italiana che tende ad invecchiare, non c'è un ricambio demografico adeguato, questo per guardare le persone, il nostro patrimonio culturale tende a sfaldarsi, ad invecchiare, non richiede necessite interventi di manutenzione e di valorizzazione che lo Stato non si può permettere, quindi noi abbiamo bisogno che altri attori entrino in questo campo e interagiscano con lo Stato per soddisfare delle esigenze sociali che sono sempre più pressanti, oggi abbiamo un welfare che è soltanto a parole universale, che è stato il patrimonio del nostro paese per anni che ha garantito la tenuta sociale del paese, la ricchezza, il benessere delle persone che purtroppo ormai è soltanto un'illusione proprio in ragione di risorse insufficienti per sostenere lo stesso livello di welfare e in ragione di un panorama che sta radicalmente cambiando e che riguarda proprio la popolazione italiana. Ci sono, l'abbiamo visto oggi, sono intervenuti autorevolissimi relatori che hanno portato molte esperienze, esperienze del terzo settore, esperienze del quarto settore, ci sono moltissime iniziative che in maniera forse disordinata, ma è un disordine creativo per fortuna, si stanno sviluppando, si stanno sviluppando nel campo della finanza, nel campo delle banche, nel campo dell'impresa, dell'industria, delle organizzazioni. L'Italia è ricchissima di esperienze di questo tipo, è ricchissima di organizzazioni sociali. Ormai il tema del profit e non profit di fatto viene superato dalla prassi, perché sempre più imprese, chiamiamole capitalistiche, cioè profit oriented, investono nel sociale e investono per vari motivi. Tuttavia, molto spesso, e questo purtroppo ancora accade, l'intervento dell'impresa nel sociale viene guardato con una certa diffidenza, cioè ci si chiede ma dov'è il vantaggio per l'impresa, ci deve essere qualcosa sotto se l'impresa decide di investire nel sociale, cioè non so, interventi di recupero del patrimonio culturale che sono stati fatti da imprenditori importanti, sono stati guardati con un certo sospetto perché si è sempre pensato se lo fa vuol dire che avrà poi una convenienza a farlo. In realtà non sempre così, ci sono sicuramente delle convenienze in termini reputazionali, in termini di vantaggi di comunicazione, però c'è un interesse dell'impresa a investire nel sociale, tuttavia non c'è una politica, ma non voglio, questa non vuole essere una critica assolutamente al governo, ad altri, voglio dire è mancata in passato una politica che guardasse agli obiettivi, perché in realtà di fatto tutto il nostro sistema sociale, quando parlo di sociale includo anche la parte di cultura, si è basato su un intervento dominante dello Stato, finché questo è stato possibile ed è durato, ne abbiamo avuto i benefici, oggi purtroppo questo non è più possibile. Allora io penso che bisogna partire, come diceva la dottoressa Moratti, dagli obiettivi, cioè noi oggi dobbiamo vedere quali sono gli obiettivi che dobbiamo conseguire, diceva giustamente lei, noi dobbiamo, anzi lo dicevi tu mi pare Osvaldo prima, abbiamo un tema anche di tenuta sociale del Paese, noi dobbiamo garantire la tenuta sociale del Paese, questo è il primo obiettivo, dobbiamo garantire che tutta una serie di servizi sociali continuino ad essere erogati ai cittadini, quindi noi non vogliamo che il welfare in senso lato si riduca in termini di qualità e di quantità, però c'è bisogno che si concorre in maniera diversa e molto più varia ed articolata a finanziare questo welfare, i privati possono farlo in maniera importante e proprio in questo io penso che ci debba essere una politica che supporti questa esigenza, queste finalità e persegua gli obiettivi, soprattutto considerando che l'Italia è un Paese solidale, io penso che noi abbiamo la solidarietà nel nostro DNA, lo dimostrano le tantissime iniziative, anche il legame fortissimo che c'è tra imprese, territori, comunità, poi la solidarietà è a base anche del nostro sistema giuridico, se penso alla Costituzione, i principi solidaristici noi li abbiamo nella Costituzione già dal momento della sua nascita, se voi pensate soltanto che l'omissione di soccorso è un reato, il fatto di non aiutare qualcuno nel momento del bisogno è un reato, ti dà la dimensione di quanto il nostro Paese sia improntato a questi principi, quindi noi dobbiamo soltanto valorizzarli e fare in modo che tutti i soggetti che possono concorrere a questo lo facciano. Per Paolo ha citato il tema della politica fiscale, io penso che la politica fiscale possa fare tantissimo in questo senso, l'iniziativa di cui ha parlato il Ministro Franceschini del credito d'imposta per le iniziative di valorizzazione, manutenzione e di sostegno al patrimonio culturale sia importantissimo, penso che ci vorrebbero ulteriori interventi, tu hai parlato del welfare, ne abbiamo parlato in passato il tema del welfare sanitario che andrebbe incentivato fiscalmente perché le imprese già lo fanno ma si potrebbe estendere questa tipologia di intervento che concorre a finanziare il nostro sistema sanitario pubblico, privato che sia perché il tema non è più tanto chi fa che cosa, il tema è chi aiuta che le cose si facciano. Io vi cito per un esempio, Confindustria ha un proprio sistema di welfare interno a favore dei dipendenti che abbiamo ulteriormente arricchito perché io credo che sia nel nostro interesse che il dipendente abbia tutta una serie di facilities che lo aiutino a lavorare meglio, senza trascurare le esigenze familiari. Io sono stata una beneficiaria quando ho avuto le bambine piccole di un aiuto, c'era un contributo per pagare l'asilo nido e la scuola materna e però questo contributo che mi veniva dato da Confindustria che mi rimborsava la metà della retta dell'asilo della scuola materna pubblico privata e mi veniva tassato come reddito, quindi praticamente da un terzo alla metà del contributo tornava allo Stato. Allora questo per Confindustria è indifferente, nel senso che io davo quella somma al dipendente, però per il dipendente voleva dire perderne la metà. Quindi questo invece sarebbe importante, se noi pensiamo che il Paese non ha un numero sufficiente di asili nido pubblici per far fronte alle esigenze della popolazione e poi ci chiediamo perché le donne non riescano ad accedere al mercato del lavoro, allora io dico una cosa, noi non possiamo tassare queste iniziative come se fossero a retribuzione, noi le dobbiamo completamente detassare, questo ha benefici notevoli in termini di accesso delle donne al mercato del lavoro e di sostegno alla famiglia, di conciliazione delle esigenze della famiglia e delle esigenze di lavoro, è un esempio banale però dalla dimensione di come a volte purtroppo manchi l'attenzione verso iniziative di questo tipo. Che invece vanno fortemente sostenute, vanno fortemente sostenute, io non dico che c'è bisogno di un piano strategico per l'impresa sociale, io dico che ci sono tutta una serie di istituzioni che hanno individuato dei punti di criticità a partire appunto dal G8 e dalle iniziative che sono state fatte, ci sono degli ostacoli da rimuovere di tipo regolamentare e di tipo fiscale, ci sono delle iniziative che vanno implementate, adesso l'attuazione per esempio delle regole del Salva Italia sul fondo centrale di garanzia per il microcredito è un tassello che manca e che io mi auguro, data la presenza qui del sottosegretario Barretta, soprattutto la sua attenzione ai temi sociali, che venga fatta al più presto. Ci sono degli strumenti che mancano, il governo ha presentato il disegno di legge delega per l'impresa sociale, è un intervento importante perché finalmente consente di rimuovere alcuni problemi che sono connaturati a questo strumento giuridico che di fatto è praticamente non utilizzato perché 700 e passe imprese sociali registrate sono una nullità rispetto alla dimensione che potrebbe avere questo fenomeno e all'utilizzo dello strumento. Quindi io penso che ci sono molte cose che noi possiamo fare e che con una politica avvertita di piccoli interventi che però guardino agli obiettivi si può fare con un costo molto contenuto sul bilancio pubblico soprattutto perché quelle risorse utilizzate come giustamente diceva Pierpaolo per i sistemi di garanzia sono poche risorse che però hanno un effetto leva straordinario. Io penso che con pochi interventi dello Stato in termini di finanza pubblica potremmo avere una diffusione di queste iniziative o moltiplicarsi con degli effetti notevoli sui cittadini, sulla popolazione ed un ritorno anche per lo Stato perché poi di fatto è un investimento che si trasforma in un risparmio per lo Stato perché la sussidiarietà del privato porta risorse che possono essere utilizzate per soddisfare dei bisogni che lo Stato non riesce più a soddisfare. Quindi questo è il messaggio che questa nostra iniziativa vuole dare. Ci sono tante cose che si possono fare, i privati vogliono concorrere, hanno veramente voglia di fare tanto e questa iniziativa lo testimonia, peraltro non c'era mai stata in Confindustria un'iniziativa di questo tipo, quindi sono veramente orgogliosa per averlo fatto e sono ancora una volta, lo ripeto, grata alla dottoressa Moratti. Se noi insieme, noi, le organizzazioni di questo settore e il governo ci mettiamo insieme, immaginiamo una roadmap, io penso che in tempi ragionevoli possiamo avere dei risultati straordinari. Grazie. Grazie Marcella. Letizia, conclusione di questa grande giornata. Devo dire che la conclusione non è facilissima, dati gli stimoli, le suggestioni, le proposte così interessanti e varie che sono state fatte sia nella mattinata sia nel pomeriggio. Io ovviamente mi trovo d'accordo con tutto quello che è stato detto anche in questa tavola rotonda e ringrazio anche per tutti questi interventi, ringrazio il sottosegretario Baretta, ma vorrei proprio cogliere una delle proposte che mi sembra sia uscita dall'intervento del sottosegretario Baretta, perché la giornata di oggi è sicuramente una giornata importante, però siamo in un luogo significativo, i marchi Confindustria e San Pateniano abbinati indicano una via nuova, però siamo tuttavia in un luogo di un convegno oppure istituzionale per un convegno. Se non ho capito male il sottosegretario giustamente riconduceva la necessità di un dialogo nelle sedi istituzionali. Allora se questa è la proposta del sottosegretario, la mia proposta è convocateci in commissione, tutti noi che a titolo diverso sentiamo questa esigenza di intraprendere delle vie nuove rispetto ai modelli attuali, quindi per implementare peraltro quello che l'Europa ci chiede di implementare, quindi l'economia sociale di mercato non è uno slogan, è un imperativo che la Commissione europea e l'Europa ci ha indicato, la finanza sociale è un nuovo possibile strumento, ci sono elementi, proposte che sono contenute nel rapporto che verrà distribuito, è già stato distribuito dell'Advisory Board italiano del Social Impact Task Force G8, estremamente interessanti, ci sono proposte che sono nate dal Movimento per l'Economia Positiva che vanno nella direzione indicata dal sottosegretario Beretta, mi fa molto piacere sentirlo, quindi di indicatori diversi rispetto al PIL che tengono conto del benessere e non solo della ricchezza, soprattutto se questa ricchezza è illegale e quindi penso che l'ideale per tutti noi potrebbe davvero essere quella di essere chiamati a portare le nostre esperienze, cito solo perché il sottosegretario Beretta non era presente questa mattina, ma abbiamo ascoltato alcune esperienze molto interessanti da parte di rappresentanti di banche francesi, olandesi e svizzere su nuovi modelli, quindi la legge Fabius per esempio, che è una legge che potrebbe, adattata all'Italia naturalmente, ma potrebbe portare ulteriori risorse a essere investite nel settore sociale, così come i development bonds di cui ha parlato il rappresentante di UBS, ci sono tante proposte che sono uscite dalla Commissione, dalla Task 4G8, 10 proposte che sono uscite dal Forum dell'Economia Positiva di Attali, credo che siamo tutti disponibili, indipendentemente dalle forme giuridiche che ognuno di noi ha scelto, che rappresenta o alle quali partecipa, quindi che siano le imprese, come abbiamo ascoltato dal direttore Panucci alla fondazione Opes, a Oltreventure ed altre, siamo tutti disponibili a contribuire a creare questi nuovi modelli, quindi saremo felicissimi credo tutti di poter essere chiamati là dove poi si fanno le leggi a esprimerci rispetto a dare proposte, suggerimenti, poi naturalmente sarà il legislatore definire il quadro normativo, l'ecosistema necessario perché tutti questi strumenti possano aiutare a far svolgere a pieno a tutti i soggetti, indipendentemente dalle organizzazioni giuridiche che questi soggetti si sono dati, a sviluppare il loro potenziale per creare crescita, sviluppo e occupazione. Grazie. E su questo autoinvito chiudiamo la giornata, ringrazio tutti e ringrazio i relatori, ricordo che per coloro che sono interessati al rapporto del G8 c'è una copia per tutti all'uscita della sala. Buonasera e grazie a tutti.